Buonasera a tutti, io mi sono portato un po' di roba come vedete perché prima di cominciare a parlare, a raccontare, io racconterò attraverso Sogni di Bonkeril gli ultimi anni della vita di Fante, ne abbiamo un po' parlato ieri ma credo sono anni particolari e secondo me è anche molto importante raccontarli perché c'è qualcosa di eroico negli ultimi anni di vita di Fante veramente di eroico e vedremo il perché, ve lo racconterò attingendo a quella che è la biografia di Fante che purtroppo non si trova più, una vita piena di Stephen Cooper che fu pubblicata da Marcos qualche anno fa ma purtroppo in questo momento è irreperibile, spero al più presto di riuscire a farla ristampare perché è una biografia molto bella, quindi attingerò da lì, attingerò da alcune lettere, un paio di lettere di Fante degli ultimi anni della sua vita e poi ovviamente dal romanzo. Prima di cominciare a fare questo c'è una cosa che io non posso non fare, la voce italiana che sentirete nel momento in cui io leggerò da Sogni di Bonkeril è la voce di Francesco Durante. Francesco Durante come sapete ci ha lasciato pochi giorni fa, per me era un grande amico, una persona di riferimento, una persona che per Fante, per questo festival l'ha fatto tantissimo, un grande intellettuale ma soprattutto un grande uomo, una persona di una gentilezza, di un garbo, di un'intelligenza e di una discrezione che non si trovano più facilmente e quindi questa cosa che cercherò di fare e che vi dico farò qui e poi in un'altra forma ma neanche tanto diversa porterò anche altrove, vuole essere un omaggio a Fante ma vuole essere un omaggio anche a Francesco. E cominciamo appunto con una data, 1971. Molte cose che noi sappiamo di Fante, della vita di Fante, di ciò che Fante ha scritto sono già alle spalle. Fante è ormai un padre di famiglia con figli grandi, ha sostanzialmente finito il suo lavoro di sceneggiatore a Hollywood con alti e bassi, delusioni, incazzature. Fante era molto incazzoso, cerchiamo di ricordarcelo perché il film di ieri molto bello peraltro forse non ci dà quella misura lì, cioè quanto fosse anche collerico Fante, parte della sua immensa vitalità che poi risuona nelle pagine dei suoi libri si manifestava poi anche in esplosioni di collera, in rabbia, in tante cose. Allora lui nel 71 è per la letteratura americana, nel canone della letteratura americana, un perfetto sconosciuto. Non se lo ricorda più nessuno Fante, i suoi libri sono tutti sostanzialmente fuori stampa, è fuori stampa aspetta primavera Bandini, è fuori stampa chiedi alla polvere. Nel 1971 c'è uno sceneggiatore di Hollywood, uno dei più bravi, si chiama Robert Town, sta lavorando alla sceneggiatura di un noir ambientato a Los Angeles di Roman Polanski che sarà poi Chinatown, che è uno dei più bei film degli anni settanta e quindi studia Los Angeles in qualche maniera, studia poi un certo periodo di Los Angeles, Chinatown è ambientato in un periodo preciso della storia di Los Angeles, è un film retro, cioè viene girato negli anni settanta ma in realtà l'ambientazione ci riporta molto indietro nel tempo. Nel corso di queste sue ricerche su Los Angeles Robert Town si imbatte in chiedi alla polvere, se ne innamora e lo opziona per realizzare un film. Questo film verrà poi realizzato effettivamente molti molti anni dopo con risultati purtroppo abbastanza scadenti, però questo intervento di Robert Town che cerca un contatto diretto con Fante e che si propone per il nazionale di Ranzo è in qualche modo un segnale di interesse o di risveglio. Fante lo prende al volo e dopo un periodo, quello diciamo della seconda metà degli anni sessanta che è un periodo difficile per lui, un periodo in cui sente di essere fuori dai riflettori e non ama essere fuori dai riflettori, Fante si rimette a scrivere e guardate caso nel momento in cui si rimette a scrivere fa prima di tutto i conti con suo padre, una volta per tutte in via definitiva. Il rapporto di Fante col padre è un rapporto complesso, un rapporto spesso conflittuale, è un rapporto misto di amore e odio nel quale naturalmente nell'amore, nel risentimento, nell'odio, nella ripulsa, nei confronti del padre risuona anche il rapporto con le proprie radici perché il padre rappresenta evidentemente la radice, la base dell'italianità di Fante e quindi il conflitto col padre diventa anche un conflitto con la propria origine e quindi perché no anche un conflitto con Torricella Perigna alla lontana, no? Fante prende e racconta e mette in scena la morte del padre, mette in scena la morte del padre in un romanzo straordinario, commovente, forse dal mio punto di vista leggendoli oggi all'età della vita in cui sono adesso, forse il più bel romanzo che Fante abbia scritto, che è La confraternita dell'Uva. La confraternita dell'Uva uscirà nel 1977 ma di fatto è finito nel 75 e che cosa viene messo in scena? Viene messa in scena la morte del padre, il padre, in quel caso ovviamente stiamo parlando della famiglia Molise, quindi stiamo parlando di Nick Molise e il protagonista, l'alter ego di Fante qui è Henry Molise, ebbene Nick Molise muore di diabete ed è esattamente la morte che si sta preparando per John Fante. Quindi John Fante mette in scena la morte del padre e anticipa un corpo a corpo e un confronto con la morte, col decadimento fisico, con il corpo che ti abbandona. Tutto questo è reso ancora più toccante nel momento in cui noi andiamo a ricostruire come sono gli ultimi anni di vita di John Fante. E qui veramente io ho preso la biografia e letteralmente mi sono segnato una serie di date e di passaggi. Allora nel 75, partiamo da lì, Robert Towne che già aveva opzionato, come abbiamo detto, chiedi la polvere, opziona anche la confraternita dell'Uva. Non solo la opziona, ma la va a proporre come possibile film a uno dei registi più in auge della nuova Hollywood di quegli anni, stiamo parlando di Francis Ford Coppola. Coppola legge la confraternita dell'Uva e si dichiara interessato a sua volta, si dichiara interessato al punto che a gennaio del 1977 invita Fante a cena nella sua grandiosa villa, dove fra le altre cose fa proiettare Full of Life, cioè il film che forse è stato il grande successo hollywoodiano di Fante. Quindi atmosfera calda, grande entusiasmo, però alla fine Fante se a Coppola interessi veramente fai la confraternita dell'Uva o meno e quando abbia intenzione di farla Fante non riesce a capirlo. Tant'è che chiede aiuto a varie persone, fra queste persone a cui chiede aiuto c'è anche Martin Sheen che è l'attore vicino di casa di Fante a Malibu e l'attore che in quel momento sta lavorando con Coppola a una cosina da poco che si chiama Apocalypse Now. Sheen prova anche a chiedere a Coppola, ma Coppola in quel momento è immerso in questa folle avventura anche produttiva, anche realizzativa che sarà per l'appunto Apocalypse Now e della confraternita dell'Uva. Diciamo la confraternita dell'Uva l'ha messa in un cassetto e l'ha chiusa lì. Siamo a gennaio 1977, pochi giorni dopo la cena da Coppola, per la prima volta di una lunga serie, Fante viene ricoverato in ospedale per due settimane per una serie di accertamenti e analisi legate al diabete, legate a una situazione circolatoria sempre più compromessa, soprattutto la circolazione delle gambe. Torna a casa, gli arrivano le prime copie della confraternita dell'Uva che è uscito proprio nel marzo del 1977, anzi nel febbraio del 1977, a maggio però viene ricoverato di nuovo, quindi a distanza di due mesi dall'uscita del libro e subisce una prima amputazione. Gli amputano due dita, una in un piede, una nell'altro. Dopo pochissimo, a giugno, poiché la cancrena avanza, gli viene amputata una gamba e quindi Fante rimane senza una gamba. Deve cominciare ad aiutarsi a camminare con un deambulatore. Scrive al suo grande amico, Kerry McWilliams, un amico di sempre, una delle prime persone che Fante ha conosciuto in California quando da Boulder, Colorado, si è trasferito in California e dice questo. Caro Kerry, la perdita più grande dopo quella di una gamba è la capacità di scrivere. È come lottare con un pesante pneumatico di gomma appeso al collo. Non chiedermi perché. Riesco solo a pensare a quel peso grande e senza speranza che preme sulle braccia. Come puoi vedere, la mia calligrafia se n'è andata al diavolo. La macchina da scrivere è fuori discussione. Il problema è che sono caduto due volte. Sono tornato a casa dopo 29 giorni. Ho cominciato a provare a usare un girello e sono inciampato all'indietro andando a ricadere sul mio moncone. Da allora dolore, ma vale la pena vivere e si tira avanti. Non potrei aver sopportato tutto questo senza Joyce. Immaginati, mi pulisce il culo, mi lava lo scroto, mi fa la barba, eccetera. Sono fortunato. Resta in piedi, Carey. Non cadere. Saluti a te e a Iris. Firmato John. Questa è la situazione in cui John Fante si trova dopo la prima amputazione e non è finita qui. Cominciano a peggiorare gli occhi, la vista, vede sempre meno. Viene ricoverato a novembre 77 attraverso una serie di ricoveri, di interventi, uno per un glaucoma, fino a quando a giugno del 1978 Fante è sostanzialmente cieco. Non ci vede più. Nel 78 però gli arrivano anche una serie di notizie che lo risvegliano, lo rianimano, perché nel 78 Robert Town dà seguito all'opzione sulla confraternita dell'Uva e compra i diritti di adattamento del romanzo pagando quasi 50 mila dollari, che non è una cifra da poco negli anni 70. Ma soprattutto esce fuori in questo momento Charles Bukowski. Cioè in questo momento Fante viene a sapere che c'è qualcuno, c'è uno scrittore, uno scrittore affermato, che in quel momento tra le altre cose è a Hollywood, perché sta lavorando a barfly, cioè alla riduzione non tanto di uno dei suoi romanzi quanto del suo mondo sotto forma di cinema e quindi sta diventando una celebrità che si sta battendo allo stremo per fare sì che chiedi alla polvere venga ristampato, perché Bukowski considera chiedi alla polvere sì che è Simpliciter il più grande romanzo del novecento e comunque il romanzo che lo ha formato, senza il quale non sarebbe mai stato uno scrittore. E in effetti, grazie allo sforzo di Bukowski, quello che succede è esattamente che la Black Sparrow Press, cioè la stessa casa elettrice che pubblica Bukowski, viene attenzionata, finalmente l'editore di Black Sparrow legge Chiedi alla polvere, che è come vi dicevo fuori stampa, fuori catalogo già da decenni, e decide di ristamparlo. Tutte queste notizie scatenano qualcosa evidentemente in John Fante. Ed è in sostanza cosa succede? Succede che a ottobre, inizio ottobre del 1979, John Fante dice alla moglie Joyce, dico prendi carta, penna e vieni con me sul dondolo nel patio, dietro casa. Joyce si siede, carta e penna in mano e John Fante comincia a dettare sogni di Bunker Hill, comincia a dettare il romanzo. Tenete conto che Fante non è più in condizione di scrivere, che Fante non è più in condizioni di leggere. E c'è una straordinaria lettera, sempre a Carey McWilliam, in cui Fante dice espressamente, purtroppo non potendo più vedere, e non essendo uno che non vede da tanto, perché poi chi non vede da tanto tempo ha degli esercizi e dei correttivi, ma per chi perde la vista c'è un effetto immediato sulla memoria che è spaventoso. Cioè la perdita di vista, alla perdita di vista si accompagna spesso e volentieri una perdita di memoria. E questo fa impazzire, fa impazzire Fante. Cioè c'è un episodio, ancora una volta testimoniato da una lettera, che ci dice qualcosa in questo proposito, e adesso ve lo leggo rapidamente. Ecco, in una delle tante lettere lui dice, fa di nuovo un quadro della sua situazione, siamo proprio alla vigilia della scrittura, o meglio della dettatura dei sogni di Bunker Hill, e lui dice sempre a Carey McWilliam, quanto arresto, la mia salute è più o meno la stessa. Sono tormentato da una nuova ulcera al piede destro, che tenacemente, anche se con lentezza, sta guarendo. La mia vista è andata, e passo una considerevole quantità di tempo a pensare a un altro romanzo. La transizione alla cecità non è facile, tutto sta nel concentrarsi intensamente, e si dipende per intero dalla memoria. Questa memoria lui cerca di esercitarla, e la esercita di fatto, insieme a Joyce, insieme alla moglie, per la scrittura di sogni di Bunker Hill. C'è un qualcosa che Joyce Fante dice, allora intanto la stesura comincia, come vi dicevo, all'inizio di ottobre, e viene finita, cioè Joyce finisce di battere a macchina il romanzo il 7 dicembre del 1979. Quindi i sogni di Bunker Hill viene dettato, e la dettatura viene completata in poco più di due mesi. In tutti questi due mesi c'è un qualcosa che Joyce dice, e ve la vado a prendere dalla biografia, che secondo me ci dice molto, e dal vivo, e da parte di chi in quel momento collaborava con lui, su quello che era il metodo di lavoro, in qualche modo, che Fante adottava. Questa è una lettera che Joyce Fante scrive a una parente, che è rimasta a Roseville, un posto dove i Fante hanno vissuto a lungo, e dice, John mi sta dettando il suo ultimo lavoro. Scrivere è tutto per lui, lo tiene letteralmente in vita. Oltre a questo c'è la sua incredibile tenacia e la passione per la perfezione. Non è soddisfatto finché il pezzo non è perfetto. In parte è come se fosse un mastro artigiano. In parte procede in modo del tutto istintivo. Questa è una chiave di lettura del lavoro dello scrittore, e in particolar modo dello scrittore John Fante, secondo me di grandissimo acume, e che ci mette nel cuore di quella che è l'unicità di Fante come scrittore. Perché Fante ha appunto questo misto di dedizione artigianale alla parola e di istinto, che è un qualcosa che raramente si va a configurare come coincidente uno scrittore. Normalmente gli scrittori si dividono in due categorie, cioè lo scrittore tutto istinto, lo scrittore che proprio scrive mosso da un demone, chiamiamolo così, da un demone interiore, e quindi scrive quasi di getto, al di là di quanto poi possa tornare su ciò che ha scritto, rivedere le sue stesure, ma di partenza scrive così, e poi c'è invece proprio l'artigiano della parola, cioè lo scrittore che scrive soppesando tutto ciò che scrive. Fante si colloca esattamente all'intersezione fra queste due cose, e non è che uno dei tanti aspetti che ne fanno un autore apparentemente contraddittorio, no? Pensate al fatto che si possa definire un autore a vocazione profondamente autobiografica e però insieme in realtà John Fante non c'è mai, o non c'è mai del tutto. C'è sempre un alter ego che è lui, ma contemporaneamente non è lui, e quindi parlare di autobiografismo quando si parla di Fante è rischioso, è più rischioso ancora delle famose operazioni alla prostata dei Philip Roth, che sono un caso tipico, no? Cioè in realtà Roth questa operazione non l'ha mai fatta, ma siccome Zuckerman si opera alla prostata, a un certo punto tutti sono convinti che anche Philip Roth si sia operato alla prostata. Allora questo tipo di contraddizione per cui l'alter ego diventa, addirittura si mangia lo scrittore, quindi John Fante diventa Arturo Bandini, è naturalmente una cosa estremamente pericolosa e che probabilmente non è del tutto giustificata nel momento in cui uno va a leggere realmente che cosa Fante scrive. Comunque per chiudere la questione, per quanto riguarda l'aspetto diciamo puramente biografico, diciamo che quando il romanzo è finito, 7 dicembre 79, mancano in realtà ancora diciamo quasi 4 anni alla morte di Fante. Fante morirà l'8 maggio dell'83. Però è anche vero che dopo sogni di Bunker Hill John Fante non scriverà più. Non scriverà più perché veramente questo è stato il suo ultimo sforzo. Di lì a non molto perderà anche l'altra gamba, subirà una seconda amputazione e soprattutto comincerà ad entrare in un regime che è un regime in cui anche la mente non tiene più. In questa fase intermedia che è sogni di Bunker Hill, noi abbiamo davanti uno scrittore il cui corpo non tiene più, i cui occhi non tengono più, i cui arti non tengono più, uno scrittore di una vitalità furibonda bloccato su una sedia a rotelle e questo scrittore trova la forza, grazie forse sicuramente anche a Bukowski, sicuramente anche all'attenzione che si sta muovendo di nuovo intorno a lui, trova la forza di fare un ultimo miracolo. Perché i sogni di Bunker Hill è a tutti gli effetti un ultimo grande miracolo. Perché è un miracolo di scrittura, perché è un libro di una freschezza stupefacente, è un libro che non sembra scritto da una persona in quello stato, non solo da una persona di quell'età, ma soprattutto da una persona di quello stato. Perché non c'è un briciolo di malinconia in sogni di Bunker Hill, c'è solo vitalità. Perché ci ritroviamo con Arturo Bandini, ci ritroviamo con Arturo Bandini a 21 anni, di nuovo, di nuovo, e Arturo Bandini, è Arturo Bandini come lo abbiamo visto nei primi racconti in cui compariva, è Arturo Bandini come l'abbiamo visto nella strada, non l'avevamo visto allora, ma l'abbiamo visto ora nella strada per Los Angeles, è Arturo Bandini come l'abbiamo visto in Chiedi alla Polvere, è lui, non è un Arturo Bandini rivisto con gli occhi della saggezza, ma è uno scrittore condannato all'immobilità e condannato alla cecità che ha la forza, e non si sa davvero da dove la prenda, di tornare a Los Angeles e di tornare fisicamente a Los Angeles e a Bunker Hill. Io vi leggo adesso i due incipit, ovvero sia l'incipit di Chiedi alla Polvere e l'incipit di Sogni di Bunker Hill, per capire quanto la voce ritorna, cioè quanto a distanza di 40 anni comunque, perché tanti ne sono passati fra Chiedi alla Polvere e Sogni di Bunker Hill, e nello stato che ho appena descritto, che cosa e quale prodigio John Fante riesce a compiere con questo romanzo. Oltretutto questi due incipit ci daranno l'occasione per fare qualche piccola considerazione su che cos'è Sogni di Bunker Hill rispetto a Chiedi alla Polvere, perché anche questa è in qualche modo una piccola anomalia sulla quale dobbiamo andare a ragionare assieme. Questo era l'incipit di Memorabile di Chiedi alla Polvere. Una sera me ne stavo a sedere sul letto della mia stanza d'albergo a Bunker Hill, nel cuore di Los Angeles. Era un momento importante della mia vita, dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo, così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta. Era un bel problema, degno della massima attenzione. Lo risolsi spegnendo la luce e andando bene a letto. Questo è il bandini, il riverente, ribelle, scombinato. Il personaggio furibondamente vitale, il personaggio che impareremo a conoscere, che impariamo di fatto a conoscere con Chiedi alla Polvere. Se teniamo conto che comunque la strada per Los Angeles, che ormai conosciamo, era però un falso punto di partenza, perché comunque il libro non venne mai pubblicato e fu pubblicato solamente postumo. E se teniamo conto del fatto che in Aspetta Primavera Bandini il personaggio viene fuori in un altro modo, che è un modo in larga parte contrappositivo. Cioè il vero protagonista di Aspetta Primavera Bandini è Svevo, è il padre. E il figlio è coprotagonista nella misura in cui costruisce la propria identità a partire da un conflitto col padre. In Chiedi alla Polvere il padre non c'è, è completamente assente. Nella strada per Los Angeles il libro che precedeva, come dicevamo, Chiedi alla Polvere e che anche Aspetta Primavera Bandini e che non era mai stato pubblicato, il padre era morto. Nell'incipit di La strada per Los Angeles una delle prime cose che si dicevano è mio padre era morto, io dovevo badare la mia famiglia. Quindi noi abbiamo, nella strada per Los Angeles un padre morto, in Aspetta Primavera Bandini un padre protagonista, in Chiedi alla Polvere un padre assente. Vedremo cosa troveremo in Sogni di Bunker Hill. Ma passiamo, scusate che io ho messo tutte le pagine segnate quindi devo di volta in volta verificare, andiamo all'incipit di Sogni di Bunker Hill. L'incipit è questo. Il mio primo impatto con il successo non fu per nulla memorabile. Facevo l'aiuto cameriere alla tavola calda di Marx. L'anno era il 1934, il luogo l'incrocio fra la terza e Hill, Los Angeles. Avevo 21 anni e per me il mondo era delimitato a ovest da Bunker Hill, a est da Los Angeles Street, a sud da Pershing Square e a nord dal Civic Center. Era un aiuto cameriere veramente unico, con grande verve e molto stile vista la professione e sebbene fossi terribilmente sottopagato un dollaro al giorno più i pasti, attiravo una considerevole attenzione quando scivolavo fischiettando di tavolo in tavolo con un vassoio in equilibrio su una mano strappando sorrisi ai miei clienti. Oltre all'abilità di cameriere avevo anche altro da offrire ai miei avventuri, poiché era uno scrittore. La notizia si seppe un giorno dopo che un fotografo ubriaco del Los Angeles Times si fu seduto al bar e mi ebbe fatto qualche scatto mentre serviva una cliente che mi guardava con ammirazione. Il giorno dopo c'era un servizio speciale allegato alla fotografia del Times. Parlava della battaglia e del successo del giovane Arturo Bandini, un ragazzino del Colorado ambizioso e gran lavoratore che si era aperto un varco nel difficile mondo dell'editoria con la vendita del suo primo racconto a The American Phoenix, diretto naturalmente dal più celebre personaggio della letteratura americana. Niente meno che Heinrich Müller, buon vecchio Müller. Questo è l'incipit di sogni di Bunker Hill. Una prima cosa la possiamo notare. In Chiedi alla Polvere Arturo Bandini ha 20 anni, in sogni di Bunker Hill Arturo Bandini ha 21 anni. Sogni di Bunker Hill non è in nessuna maniera il sequel o il prequel di Chiedi alla Polvere. È un'altra storia di Arturo Bandini parallela e complementare alla storia che ci viene raccontata in Chiedi alla Polvere. Con alcune analogie, una balza all'occhio, il successo effimero in realtà legato a questo famigerato primo racconto che qui viene pubblicato da questo tal Heinrich Müller dietro il quale si nasconde paresemente Henry Louis Mencken, cioè il primo mecenate di Fante, quello che sull'American Mercury gli pubblica effettivamente i primi racconti, quindi American Mercury è diventato American Phoenix. Quindi c'è questo. D'altro canto ricorderete benissimo il cagnolino rise, ovvero sia il racconto che invece Arturo Bandini va sbandierando ai 420 come il suo punto l'ingresso del mondo degli scrittori, anzi dei grandi scrittori. Quindi partiamo da una situazione identica, non da una situazione di post o pre. C'è una piccola differenza d'età, 20 anni in Chiedi alla Polvere, 21 qui, ma sostanzialmente Fante ha preso un'altra decisione, ha deciso di ritornare a essere, ritornare a incarnare, ritornare a dare voce ad Arturo Bandini e raccontare un'altra storia, che è una storia molto più riepilogativa di ciò che è stata la sua vita. C'è paradossalmente molto più autobiografismo, se vogliamo, in sogni di Bunker Hill che non in Chiedi alla Polvere. C'è meno trasposizione, è come se si volesse veramente prendere Bandini, buttarci sopra e vedere che cos'è che succede, diciamo, non nel clash, perché questo clash adesso si può fare. Cioè nel 1939 fare un'operazione del genere, significava farsi l'autoritratto quasi in diretta. Nel 1939 Fante era ancora uno scrittore giovane, era ancora un uomo nel pieno delle forze, non era ancora un padre di famiglia, forse aveva già avuto il primo figlio, ma comunque non aveva quella dimensione di padre di famiglia con i figli già grandi, addirittura i primi nipotini in arrivo, non era quella la situazione. Fante vecchio, Fante menomato, può fare i conti con Bandini molto più da vicino, può tornando su Bandini raccontare anche se stesso e raccontare una serie di cose di se stesso. Ed è esattamente quello che accade in sogni di Bunker Hill, perché se c'è una cosa che Fante racconta in maniera straordinaria in sogni di Bunker Hill è l'instabilità perenne dell'io e l'illusorietà dei mondi con cui l'io, il protagonista, si trova a avere a che fare. Instabilità dell'io. Il romanzo è breve, in poco più di 140 pagine, 150, Arturo Bandini cambia casa non si sa quante volte, si trasferisce di continuo. Prima vive appunto in questa pensione gestita da questa signora, Helen Brownell, che ha quattro anni più di sua madre, come Arturo ci tiene a precisare, e con cui si stabilisce questo rapporto sostanzialmente amoroso. Finché a un certo punto, un giorno, non vanno fuori a ballare e un cameriere dice a Helen Brownell, tu mammina che cosa prendi? E questo tu mammina che cosa prendi fa venire fuori in tutto e per tutto il contrasto con l'età per giunta. Se per goffaggine o per stronzaggine o per ragioni psicologiche o psicoanalitiche che tu ci potresti raccontare molto meglio, no, per quale che sia il motivo, ma Bandini ripete poi questa battuta tremenda, forse per cercare di sdrammatizzare. Il risultato che ottiene è catastrofico. Poi, e quindi viene cacciato sostanzialmente dalla pensione, se ne deve andare. Nel frattempo che cos'è successo? Dal punto di vista della carriera sono successe tante cose. Prima è andato a lavorare da questo sedicente editor, quello che forse oggi sarebbe un editor, secondo il linguaggio che usiamo oggi, che fondamentalmente è uno che in realtà fa la gente, si fa spedire una serie di manoscritti e li massacra. Quindi incarica, perché il più delle volte sono emerite porcate. Dà questo incarico ad Arturo Bandini, gli fa vedere come si fa. Bandini distrugge un improbabile manoscritto, l'ital Jennifer Lovelace, salvo scoprire poi che è una bellissima, una bellona di Hollywood e quindi cercare poi di sedurla invece, ma in un primo tempo semplicemente le distrugge in manoscritto e viene poi incolpato interamente di questo dal vigliacchissimo erido raggente, il quale dice no, io non c'entro niente, ha fatto tutto lui. E quindi questa sua prima esperienza finisce male. Viene contattato da un produttore che si chiama Schindler, curiosamente, ci sono anche delle curiose coincidenze di nomi o cose simili, che lo ingaggia sostanzialmente per non fare niente, come in effetti accadeva a molti. Gli dice ma no, tu mettiti questo è il tuo tavolino, ti metti qua, ogni giorno ti leggi un po' di roba, fatti mandare le sceneggiature dei film che ho prodotto, guardati un po' dei film, lì c'è una saletta proiezioni, guardati i miei film e tieniti pronto. Questo tieniti pronto si prolunga all'infinito fino a quando a un certo punto non gli viene ventilata la possibilità a Bandini di fare la sceneggiatura, l'adattamento da un romanzo di Theodore Dreiser, il genio. Lui si mette a lavorare con un pazzo, riempie quattro quadernoni di appunti, osservazioni, come si potrebbe ridurre questo voluminosissimo romanzo, fino a quando poi il produttore non lo chiama e gli dice no, guarda mi dispiace non abbiamo potuto comprarlo quindi. E lui va su tutte le furie, dice ma come, ma io quattro quaderni eccetera eccetera, finché anche questa sua esperienza finisce male per una ragione molto semplice, perché questa signora piacente che gli è stata messa come segretaria a un certo punto, quando lui ritorna deluso perché il produttore lo ha scaricato sul progetto Dreiser e si mette a piangere, lei lo consola e da qui finiscono accoppiati sul pavimento. Entra il produttore, fa una piazzata apparentemente a lei, Bandini che non capisce ancora, le dice, dice al produttore ti prego non licenziarla, lui dice guarda non ci penso nemmeno in realtà io licenzio te te ne puoi anche andare. Quanto a lei, insomma si scopre che questa sedicente segretaria era in realtà la moglie del produttore. E questa è l'altra disavventura di Bandini. E quindi nel frattempo si è stabilito a casa di quest'altro scrittore che si chiama Edgington, anche lì le cose vanno a finire male, finisce a lavorare per un agente che gli trova la possibilità di scrivere un film a quattro mani con un'improbabile signora sceneggiatrice, regista di tutto un po', che è una che conosce tutta Hollywood o comunque vanta di conoscere tutta Hollywood, lui va a una serie di appuntamenti con questa signora che finiscono tutti malissimo, perché sostanzialmente non combinano niente, la signora passa tutto il tempo a dire quanto è simpatico è Rolf Flynn, quanto è bello Clark Gable, quanto è amica sua a Ben Davis e via dicendo, e lui alla fine non ne può più. Cosa succede? Bandini dice ok, la sceneggiatura la scrivo prima io e poi tu la rivedi, la sistemi, la metti a posto, lui scrive la sceneggiatura, ne è felicissimo, lo manda, la manda la simpatica signora che dopo un paio di mesi gliela rimanda indietro completamente cambiata. Lui si infuria, si rifiuta di mettere la firma su questa sceneggiatura anche quando sa che effettivamente un film da questa sceneggiatura verrà realizzato e alla fine succede una cosa, secondo me una delle scene più divertenti che io abbia mai letto da Fante, ovvero sia dopo questo disastro, dopo aver ritirato la firma, lui a un certo punto va a vedere questo benedetto film che si chiama Sin City, lo va a vedere, il film è tremendo, effettivamente o almeno così ci viene descritto e io vi vorrei leggere questa scena perché questa scena ricapitola secondo me per intero il famoso rapporto conflittuale, difficile eccetera che Fante ha intrattenuto con Hollywood un po' per tutta la vita. Allora la scena è questa, è breve, in febbraio la Liberty Films distribuì il film di Velda van der Zee, Sin City, lo vidi al Wiltern in Wilshire Boulevard, allo spettacolo del pomeriggio, andai preparato a detestarlo e fui compiaciuto ritrovare il teatro a mezzo vuoto, comprai un sacchetto di popcorn e trovai un posto in galleria, mi sedetti lì compiaciuto che il mio nome fosse stato cancellato dal film e quando le luci si spensero mi sentii molto lieto e sollevato all'idea che il mio nome non sarebbe stato fra i teori di testa. Risi forte quando comparve il nome di Velda e a mano a mano che il film si srotolava e la dirigenza rimbalzava sul terreno risi di nuovo. Una mano mi toccò la spalla, mi voltai e vedi una donna minacciosa. Mi sta disturbando, disse. Non ci posso fare niente, risposi, è un film molto divertente. Apparve la banda di indiani nemici e io risi sguagliatamente. Diverse persone nelle vicinanze si alzarono e si sparpagliarono in altri posti. E così andò avanti. Tutto il mio lavoro, tutto il mio pensare era così estraneo. Film sbalorditivo, incredibile. Solo in due punti mi imbattei in un paio di righe che avrei anche potuto scrivere io e che il regista non aveva cancellato. La prima era in una scena iniziale, quando lo sceriffo arriva a cavallo a Sin City, al galoppo, e ferma il cavallo davanti al saloon gridando Wow! Adesso mi ricordavo di quella frase. Wow! La mia frase. Un pochino più avanti lo sceriffo esce impettito dal saloon, monta a cavallo e grida Vai bello! Anche quella era una mia frase. Vai bello! Wow! E vai bello! La mia realizzazione come sceneggiatore. Ora, questo, al di là della comicità e al di là del fatto che poi in realtà, come sempre nei libri di Fante, questo brano va letto anche con attenzione perché in realtà in quell'insistere sul compiacimento perché il suo nome è stato cancellato, c'è chiaramente il sentire, dice, ma avrò fatto bene, avrò fatto male, no? Ovvero sia in fondo questa è stata la mia chance e me la sono più o meno giocata Sta di fatto però, a prescindere da questo, che quello che in realtà Arturo Bandini fa per tutto il libro è costantemente il cercare o il proiettarsi o il venire proiettato o estroiettato da tutti i mondi nei quali potrebbe in qualche maniera calarsi ed è lì che il libro si vena di una forma di malinconia ovvero sia le pagine malinconiche del libro, sono soprattutto le pagine in cui lui lascia Bunkeril, in cui lascia Bunkeril e lascia questa pensione nella quale lui ha riprodotto una specie di rapporto a metà fra l'amoroso e il materno con questa donna che è una donna che in fondo gli è sempre stata accanto una donna che per esempio quando lui a un certo punto si mette a giocare a scacchi in un capitolo del romanzo si mette a sfidare in maniera ossessivo compulsiva un giocatore di scacchi che lo rovina sostanzialmente poi continuano a giocare a scacchi anche in galera e alla fine Arturo ha accumulato un debito di circa 30 mila dollari con questo giocatore di scacchi vengono arrestati per vagabondaggio, portati in prigione ed è la povera Ellen Brownell a pagare la cauzione e farlo uscire quando dopo la delusione del film che è andato a vedere al cinema Arturo va in un bar dei Filippini, beve questo vino filippino molto aromatizzato esce e ha un malore, sostanzialmente un avvelenamento da eccesso di alcol è Ellen che trova l'ospedale quando si risveglia eppure questa donna non lo vuole più non lo vuole più quando lui torna alla pensione per cercare di riconciliarsi trova il fratello di lei che sostanzialmente lo respinge quando va per l'ultima volta alla pensione è tornato da un viaggio a casa perché è tornato a casa già respinto dalla prima casa cioè da Boulder, Colorado dove è finito picchiato da suoi amici sostanzialmente a una festa perché ha menato vanto mentendo laborosamente sulle sue frequentazioni hollywoodiane e ha detto cosa fate voi qui questa vita fate schifo tutti eccetera alla fine è stato picchiato e è tornato a casa sporco di sangue ha ripreso il suo pullman da Boulder e è tornato a Los Angeles quando torna a Los Angeles la prima cosa che fa è cercare di nuovo Ellen ma Ellen è morta così come compariva e così come veniva raccontata e veniva in qualche modo esorcizzata forse superata sicuramente trasformata in uno strumento di compensazione anche perché attraverso la morte nella confraternita dell'Uva si recupera una volta per tutte il rapporto col padre ci si riconcilia la morte di Ellen è terribile a suo modo nella semplicità con la quale viene raccontata andai in tram in cima a Buncherille guardai da lontano l'albergo era magico come un castello di un libro di favole sapevo che questa volta lei mi avrebbe preso senti la forza dei miei anni e sapevo di essere più forte di lei e che lei si sarebbe sciolta tra le mie braccia entrai nell'albergo e poggiai le valigie contro il muro lei non era alla scrivania mi ci avvicinai sorridendo e suonai il campanello non ci fu risposta allora colpì il campanello di nuovo più forte la porta si aprì leggermente era l'uomo che avevo già visto l'altra volta l'uomo che aveva detto di essere suo fratello non venne avanti e parlò in un bisbiglio sì? sto cercando Helen non c'è, disse e chiuse la porta girai attorno al tavolo e bussai lui aprì la porta e rimase lì a piangere se n'è andata, è morta come? dissi, quando? una settimana fa, è morta l'infarto mi sentì mancare le forze mentre barcollavo verso una poltrona alla finestra non volevo piangere qualcosa di profondo e duraturo era crollato inghiottendomi sentì il petto che si gonfiava il fratello si avvicinò e rimase accanto a me a piangere mi dispiace, disse mi alzai, sollevai le valigie e uscii ora, in questa scena quello che secondo me è straordinario è che il patetismo della scena o l'ipotetico possibile patetismo della scena viene corretto dalla straordinaria dignità di quest'uomo che è il fratello, fra le altre cose, di Helen Brownell il quale riesce a dire a uno che in fondo per la sorella è stata una mezza rovina quel mi dispiace ecco, questo è Fante nel senso che quell'equilibrio tra l'istintualità, lo slancio la scrittura di pancia e il lavorio invece la cura con cui sono sistemate le parole secondo me si vede soprattutto in queste che sarebbero potenzialmente scene madri e che vengono risolte con un equilibrio e con una sobrietà e Fante tende a essere più sobrio quanto più le scene sono tragiche, drammatiche dove Fante esplode e quando ci deve far ridere allora lì è incontenibile oppure quando deve rappresentarci una sfuriata che però è quasi sempre una sfuriata contro il nulla è quasi sempre una battaglia contro i murini a vento quando ci si confronta realmente con la mortalità il tono si abbassa diventa quasi elegiaco in certi punti e lì ci sono i toni di elegia che in Fante esistono e che abbiamo visto anche ieri nel film c'è quella componente ma non finisce così il libro non finisce con la morte di Helen c'è qualcos'altro perché lui a quel punto ritorna sempre a Bunker Hill nell'albergo dei Filippini ovvero sia l'albergo nel quale si era sistemato nel momento in cui era stato cacciato aveva tentato di ritornare nel suo albergo da Helen Brown e il manone era stato accolto il direttore dell'albergo filippino fu contento di vedermi non fu una sorpresa quando mi disse che la mia stanza non era occupata essendo un bucigattolo orrendo era la stanza per me me la meritavo la stanza più piccola la meno invitante di Los Angeles mi avviai per le scale e aprì con una spinta la porta dell'orribile buco aveva dimenticato qualcosa disse il direttore stava sulla porta tenendo la mia macchina da scrivere portatile mi sbigottì non perché fosse lì ma perché me ne ero completamente dimenticato la poggiò sul tavolo e io lo ringraziai chiudendo la porta apri una valigia e tirai fuori una copia di fame di Knut Hanson era un oggetto conservato gelosamente sempre con me dal giorno che l'avevo rubato alla biblioteca di Boulder lo avevo letto tante di quelle volte che potevo recitarlo ma adesso non importava niente importava mi sdraiai sul letto e dormii era il tramonto quando mi svegliai e accesi la luce mi sentivo meglio non ero più stanco andai alla macchina da scrivere e mi ci sedetti davanti la mia idea era di scrivere una frase un'unica frase perfetta se avessi potuto scrivere una bella frase avrei potuto scriverne due e se avessi potuto scriverne due avrei potuto scriverne tre e se avessi potuto scriverne tre avrei potuto scrivere per sempre ma supponiamo che avessi fallito supponiamo che avessi perso tutto il mio magnifico talento supponiamo che si fosse consumato tutto nella foga di beef new house che mi rompeva la faccia o in ellen brownell morta per sempre cosa mi sarebbe rimasto sarei andato da abe marx e sarei diventato di nuovo aiuto cameriere avevo 17 dollari nei portafogli 17 dollari e la paura di scrivere mi sedetti davanti alla macchina da scrivere e mi soffiai sulle dita per favore dio per favore no thamson non abbandonatemi adesso cominciai a battere e scrissi the time has come the world said to talk of many things of shoes and ships and sealing walks of cabbages and kings rilessi e minumidi le labbra non era roba mia ma che diavolo bisognava pur cominciare da qualche parte questi quattro versi sono quattro versi da Lewis Carroll ok e da uno dei tanti poemetti che stanno in attraverso lo specchio che sono naturalmente poemetti che si reggono sul paradosso tant'è che chi siano poi dopo questo chi sia veramente per esempio questo tricheco ognuno l'ha interpretata a modo suo c'è chi ha parlato di sottotesto religioso chi ha parlato di sottotesto politico quindi è con un con un con quattro versi paradossali non suoi che Arturo Bandini si riavvicina comunque alla scrittura ma la cosa straordinaria ritornato dietro chiudendo il cerchio e chiudendo anche idealmente questo ricordo insomma di Fante a poco dalla morte la cosa più che a me personalmente emoziona di più di questo passo perché mi emoziona nel momento in cui penso a quando è stato scritto è questo gesto per cui il direttore dell'albergo gli consegna la macchina da scrivere e lui rimane sorpreso perché se ne è dimenticato si è dimenticato si è dimenticato di averla lasciata lì si è dimenticato proprio dell'esistenza di quella macchina da scrivere per uno scrittore ridotto in cecità ridotto su una serie a rotelle con una gamba sola e fra poco senza più neanche quella che ha appena detto al suo migliore amico io purtroppo ho problemi di memoria perché la cecità improvvisa è un processo trasformativo che richiede uno sforzo spaventoso io la memoria non la trovo più la perdo ecco questa smemoratezza e questo improvviso ritorno è esattamente la cosa più autobiografica e il momento in cui secondo me veramente Arturo Bandini diventa Gionfante è in questo momento qui che Arturo Bandini diventa Gionfante ma non diventa il Gionfante giovane e pieno di speranze diventa il Gionfante che torna giovane cioè diventa quest'uomo ormai a un passo dalla morte malato il quale chiede alla moglie vieni con me sul patio e per due mesi della sua vita recupera questa specie di elisir della gioventù e quindi recuperando l'elisir della gioventù non poteva che non poteva secondo me scrivere un seguito richiedi alla polvere non poteva poteva riscrivere chiedi alla polvere e Sogni di Bunker Hill è un altro modo di scrivere e raccontare Arturo Bandini è un altro romanzo che di nuovo ci ripropone chiedi alla polvere chiudo su una notazione in questo romanzo mentre in chiedi alla polvere il padre non c'era in questo romanzo il padre c'è Svevo Bandini c'è in questo romanzo e guardate Svevo Bandini c'è a livello di romanzi solamente in questo romanzo oltre che ovviamente in aspetta primavera Bandini dove però è protagonista e c'è in un momento molto preciso e in una scena secondo me anche questa veramente veramente commovente che adesso cerco di ritrovarvi perché me la sono segnata vediamo se la trovo perché perché praticamente come vi dicevo a un certo punto Arturo prende una decisione e la sua decisione dopo l'ennesima delusione soprattutto perché lui a un certo punto è andato a scrivere questa è l'unica parte diciamo del romanzo che non vi ho raccontato ma lui a un certo punto è andato a scrivere su una spiaggia dopodiché su questa spiaggia mentre scriveva dopo un momento di grande ispirazione diciamo che a rovinargli l'ispirazione è arrivato un improbabile personaggio uno dei più divertenti in tutta la produzione letteraria di Fante secondo me che si chiama il Ducari Sardegna e che è un wrestler il quale passa il suo tempo a trascinare un carretto su e giù un rimorchio su e giù per la spiaggia e siccome questo rimorchio non fa abbastanza resistenza lo riempie di sabbia in maniera da faticare di più ed è un personaggio estremamente disturbante che peraltro è un personaggio che porta addosso a bandini l'italianità perché è un wrestler italiano lui dichiara di essere il figlio del principe di Sardegna quindi addirittura di avere origini diciamo origini regali allora quando questa esperienza finisce e finisce un po' maluccio perché Arturo che è perennemente un diciamo uno pseudo seduttore la metterei così tenta di sedurre pure la fidanzata del Ducari Sardegna quando giustamente la fidanzata strillando va dal wrestler a dirgli guarda è quello che voleva mettere le mani addosso Bandini comincia a scappare come un pazzo e riesce a scappare con la macchina un attimo prima di essere preso e conciato per le feste però quando prende questo pullman e questa è una scena meravigliosa con cui vorrei chiudere questa chiacchierata con voi è una scena meravigliosa perché il viaggio diventa un viaggio dentro una bufera di neve cioè lui prende il pullman della Greyhound parte da Los Angeles per arrivare a in Colorado per l'appunto e già dice quando passavano nel Nevada cominciarono a cadere i primi fiocchi di neve attraverso il Nevada viaggiamo nella tempesta che si avvenzava e insomma noi di tempeste qua in questi due giorni ne abbiamo viste però quella è una tempesta di neve quando arrivano lo scalo di Boulder questo è il quadro che Arturo si trova davanti la neve era spaventosa i fiocchi grandi come dollari ondeggiavano lentamente verso la terra e giacevano lì senza sciogliersi rimasi davanti allo scalo dei pullman tremando in un maglione leggero battendo le palpebre davanti alla mia città natale dove diavolo era la neve giocava a nascondino con la scena sapevo che c'era un ponte mezzo isolato più avanti ma adesso era invisibile sapevo che c'era un deposito di legname dall'altro lato della strada ma era svanito ebbi un tremito e accesi una sigaretta e batte i piedi per tenerli caldi all'improvviso una figura mi si parò davanti credevo riconoscere la sua faccia ma non ne fui sicuro fino a quando lui disse che cosa fai qua poteva essere solamente mio padre sono tornato a casa il suo respiro veniva fuori come vapore sei gelato disse dov'è il tuo cappotto ce l'hai addosso tu disse io si sbottonò il pesante cappotto di montone e se lo tolse mettilo disse porgendomelo e tu non ti preoccupare per me mettilo mi aiutò a infilarmelo adesso lui stava in maniche di camicia con i fiocchi di neve che lo colpivano andiamo disse ci allontanammo rapidamente il cappotto aveva il calore del suo corpo era una parte integrante della mia vita come una sedia vecchia o una forchetta consumata o lo scialle di mia madre le cose della mia vita le preziose cose senza prezzo che mi erano care grazie applausi grazie 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 grazie